un nuovo video giornaliero di fortnite in verità non siamo su fortnite ma siamo su un nuovo gioco che avevano parlato ieri ragazzi nello scorso video dei giocatori di fortnite che avevano aggiunti del gioco rogue company infatti oggi farò vedere proprio stamattina ho fatto la prima partita e poi rotterò molte altre volte nei altri video con questo nuovissimo gioco l'hanno visto proprio su playstation 4 e playstation 4 proprio a giugno del 2020 di quest'anno ok ragazzi che dire adesso andiamo a presentare lo shop di questo gioco ve ne parlerò un pochino ad esempio se andiamo in drugs ci saranno le nostre skin abbiamo come prima anvil quelle gratis diciamo carina dai poi abbiamo ronin che quando fate l'allenamento vi mettono proprio a lei all'inizio adesso ve la faccio vedere eccola qui ragazzi è lei come vedete dai molto carina i personaggi sono molto fatti bene sono fatti benissimo perché sembrano proprio persone reali poi ragazzi ci danno grazie anche sent guardate ragazzi proprio bello quello che sto indossando adesso poi ragazzi abbiamo dallas che ci danno gratis sempre ok dai carina è molto aggressiva è molto inquietante questa skin poi ragazzi ci danno dima cioè questo che vi accompagnerà e vi dirà tutte le informazioni durante l'allenamento di questo gioco certamente di rogue company ragazzi porto bella questa skin oh mio dio guardate cosa fa oh mio dio ragazzi ok ragazzi poi come ultima skin gratis abbiamo trench che ci danno gratis e poi la maggior parte li possiamo cambiare normalmente possiamo scegliere le loro armi possiamo cambiare i loro costumi ad esempio possiamo cambiare le loro armi possiamo mettere anche delle moto infatti adesso faccio vedere le moto che hanno dato proprio all'inizio gratis eccola qui ragazzi eccola qui ragazzi oh mio dio ma che belletto è e poi c'è questo questo spray default spray common spray ok ragazzi poi questa era una skin adesso andiamo a sguicciare lo shop perché è la prima volta che inauguriamo lo shop su quest'altro gioco ragazzi i profili ci saranno anche nuovi video su apex legends ma anche su fortnite se vi piacciono iscrivete qui sotto nei commenti se volete anche nuovi nuovi video su questo gioco ragazzi se volete altri nuovi video anche su apex legends per la prima volta andiamo nello store ragazzi vediamo cosa abbiamo uuuuuh abbiamo angli cincot oh mio dio ah sta cambiando ok abbiamo shield made in side grid oh mio dio quanto è fatta bene balla anche ragazzi quanto è fatta bene questa skin ah proprio carina molto muscolosa poi ragazzi abbiamo also mimetica tanto americana ragazzi proprio bella blu molto intenso intenso poi ragazzi vediamo cosa abbiamo più ragazzi poi abbiamo questo pacchetto poi abbiamo questa mimetica ragazzi carina arancione si muove anche ragazzi poi abbiamo ragazzi abbiamo ok abbiamo angli cincot anvil dai carino con questo stile di natale come vedete guardate con la vestaglietta di natale poi ragazzi abbiamo ragazzi abbiamo ragazzi abbiamo ragazzi ragazzi abbiamo ragazzi un'altra mimetica da 700 soldine ad esempio ad esempio a rugby bucks si chiamano ok ragazzi eccoli qui poi ragazzi abbiamo tantissime altre cose ad esempio abbiamo il balletto già un ciao un fan guardate come scatenato ragazzi guardate come scatenato eccolo eccolo oh mio dio ragazzi ok ragazzi poi abbiamo slugger oh mio dio con la spada cosa fa ah no non è una spada è una mazza da baseball ragazzi molto bello e costa 400 rogue bucks ok ragazzi e che dire questo era il video ragazzi su rogue company ci vediamo in altri video su rogue company facendo delle partite noi ci becchiamo un nuovissimo video vi ricordo iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e per questo video arriviamo a 10 like ci possiamo mettere anche un po' di tempo però ci dobbiamo arrivare ragazzi che dire non ci becchiamo un nuovissimo video e ciao brother ciao ciao